Noi pensiamo al loro benessere. Le mucche vanno allevate con rispetto e passione. Ne abbiamo 70.000. Tutte qui? No, in molte regioni italiane. Siamo 700 allevatori. Mica lavoro solo io. E grazie a loro se il latte Granarolo è così buono. Grazie a noi si è garantito. Dalla grande filiera italiana del latte, latte fresco Granarolo. Da oggi al prezzo consigliato di 1,39 euro. E quella della Lola. Grazie a tutti.